Salve salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi sono qui per mostrarvi e per scartare e anche per parlare un po' con voi di due edizioni veramente bellissime ragazzi, di due storie imprescindibili, importantissime per quanto riguarda il fumetto italiano, ma proprio per quanto riguarda la storia del fumetto io direi anche mondiale. Chi segue i miei video dagli albori sa che uno dei miei personaggi preferiti in assoluto è sempre stato il re del terrore, ossia Diabolik. E molte volte sul canale ne ho parlato, ora recentemente lo faccio un po' meno, ma comunque seguo mensilmente la serie inedita e recupero sempre cose interessanti che magari non ho. Come succede appunto in questo video, perché non posso e non potevo non dedicare questo spazio per due capolavori assoluti, ma anche due veramente, ripeto, edizioni che la Scarabeo ci ha portato e che un amante del fumetto non può rimanere indifferente, perché sto parlando di due opere, veramente ragazzi, io adesso lo vedremo insieme, le guarderemo insieme, e sto parlando del remake disegnato da sicuramente, da colui che reputo il più grande disegnatore oscuro del fumetto italiano, cioè Corrado Roy, che rielabora la storia, la mia, almeno la mia sicuramente, storia Diabolik preferita in assoluto, che è Diabolik, chi sei? Eccola qui. In questa spettacolare edizione che io, vedete, è chiusa ma l'ho già sfogliato in fumetteria, l'ho già visto su internet, insomma, prima di prendere mi sono ovviamente documentato, e le ragazzi non ho potuto resistere a... questa qua è un'opera spettacolare, allora io, Diabolik, chi sei? La possiedo già, ho già, nella seconda ristampa della Swiss, due copie. Ho la ristampa, quella anastatica, che è uscita recentemente, e ho anche quella uscita con le carte, insomma, iniziate un po' quanto io amo, e ce l'ho anche a colori, iniziate un po' quanto io amo questa storia. E quindi non potevo assolutamente prendere, tra l'altro, Diabolik, chi sei? Che sta anche al cinema, quindi ci sta anche... Ci sta anche come... per chi volesse approcciarsi a Diabolik, questo secondo me potrebbe anche essere, sotto certi aspetti, un buon incipit. E ragazzi, adesso io andrò a scartare questo volume e ne parleremo. Per chi non lo sapesse, Diabolik, chi sei? C'è Diabolik e Ginko che sono, diciamo, costretti, tra virgolette, insomma, si troveranno, diciamo così, in una situazione, nella stessa stanza, in cui Diabolik spiegherà più... Diciamo, dirà Ginko più o meno, cercherà di dare... Perché Ginko gli chiederà, ma tu chi sei veramente? Da dove vieni? E Diabolik cercherà, tra ovviamente tutto questo, la sceneggiatura che sarà elaborata dalle mitiche inarrivabili, Angela e Luciana Giustani, hanno cercato un po' di mettere le basi, di dare delle basi al personaggio, anche se in realtà, ovviamente, non tutto è chiarito, perché poi nel corso degli anni, con i vari gatti diabolik, insomma, la storia del personaggio, quando stava sull'isola dei King, sta sempre più venendo a galla con storie spettacolari, insomma, vabbè, quello è un altro discorso. Comunque, adesso andiamo a scartare questa opera spettacolare, che adesso vedete con i vostri occhi, se Faber dice una cosa non vera. Ragazzi, non potevo non dedicarci questo video, ragazzi, perché veramente un amante nel fumetto non può, non può, a prescindere da che, da, da, ami il personaggio o no, ma questa è proprio un'opera d'arte, perché ragazzi, Roy sappiamo tutti quanti che non è solo Diabolik, è anche un grande maestro del bianco e del punto, cioè, e molti fanno l'errore di mettere, cioè, di pensare che Roy sia bravo solo a fare Diabolik, in realtà, lui è il maestro del bianco e nero, cioè. Allora, ragazzi, io intanto faccio, mi mostro subito l'eleganza e la bellezza, ragazzi, di queste edizioni che meritano l'acquisto, invece di comprare 10 albi a buffo ed una cosa, mi permisco mai comprendere uno che veramente sia degno. Allora, ragazzi, personaggio, ovviamente, qua abbiamo, pensare un po', ci sono, cioè, ci dice che, insomma, sono state fatte delle, non tantissime copie di questa, di questa edizione, quindi, insomma, prendete, ragazzi, fatevi un bel regalo, non fatevi da sfuggire, abbiamo il Diabolik che è disegnato da Corrado Roy, questo qua, ovviamente, è una delle, è il frontespizio, mi pare, se non sbaglio, non mi ricordo, insomma, beh, comunque, è una delle tavole originali, questa è la copertina originale, uscita all'epoca, guardate quanto è bello il reparto redazionale, perché ricordo sempre che le edizioni, queste qua, se sono ricche di extra, o se hanno extra, valgono già l'acquisto, perché le extra dovete leggerli, è importante conoscerli, guardate un po' qua, ragazzi, che spettacolo, guardate qua il spettacolo, ragazzi, è un volume spettacolare, poi, la cosa che a me è piaciuta molto, guardate quanti extra, ragazzi, ve lo mostro, così mi fate un'idea, questa è la copertina rifatta, guardate che spettacolo, ragazzi, di Diabolik, e poi, ragazzi, la cosa che io ho molto apprezzato, ah, questa, ovviamente, è come inizia la storia, ora, io, prima di iniziare a leggere la storia, e vi racconto qui, vi leggo quello che c'è dietro, Diabolik, che sei, la storia a fumetti pubblicata, per la prima volta, nel quinto albo, del settimo anno, della serie a fumetti, edita dalla casa di Rija, a storia, il 4 marzo 68, che nelle stampe, è il numero 107, se non sbaglio, per la prima volta, uscita il 4 marzo 68, il soggetto e la sceneggiatura, sono di Angela, ovviamente, degli inarrivabili, Angela e Luciana Giussani, mentre, i disegni sono di Glauco, Coretti, quelli originali, e del grandissimo Enzo, Facciolo o Facciolo, il grande maestro, che ci ha lasciato, tra l'altro, poco tempo fa, e che, ci, 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 con la sua ultima opera, criticato, dagli eretici, che hanno usato a criticare, addirittura, la sua ultima opera, come fate a criticare, Enzo Facciolo, Capre, perché lo devo dire, perché, c'è stata gente, che ha usato a criticare, Enzo Facciolo, nel suo ultimo lavoro, su Diabolica, senza rispettarlo, per quello che ci ha dato, e quando poi, invece, vengono elogiati, certi autori, ma lasciamo perdere, ecco appunto, è il centosettesimo, episodio della serie appunto, come dicevo prima, ritenuto uno dei più importanti, in quanto sveglia il passato, del criminale, e l'origine del suo nome, nel sessantesimo, anno della testata, abbiamo pensato, di far ridisegnare, quel mitico albo, dal maestro di atmosfere, che risponde al nome di Coradoroi, ragazzi, questa storia, ha avuto anche altri rifacimenti, anche altri artisti, l'hanno rifatta, però, quindi, non è, il primo remake, come invece vedremo nel prossimo, ha avuto già altri remake, ma era fatto da noi, è tutta un'altra cosa, quindi, dopo avervi letto, un attimo, il preambolo, vi mostro, com'è il tratto di Roe, allora, la cosa che io ho gradito, è questa qui, questo, è, quello di Roe, e vicino, abbiamo, le tavole, quelle là, in piccolo, di com'era la storia, così, se qualcuno, magari non c'ha l'albo, oppure, vuole vedere subito, la differenza, ha, in questo modo, l'opportunità, come vedete qua, di fare un piccolo, raffronto, essendo poi, delle, delle, essendo poi ridotte, non dà neanche fastidio, però, ce l'hai a portata di mano, quindi questa cosa, la reputo molto interessante, perché adesso, quando, quando andrò, a rileggere, cioè, a ricodere, la storia, mi andrò a divertire, un po', a vedere, la differenza, ragazzi, la differenza, cioè, come eroi, si è divertito, insomma, a cambiare, o a rifare, le varie tavole, guardate qui, ragazzi, la bellezza, dei volti femminili, ovviamente, guardate qua, ragazzi, che spettacolo, guardate che, ragazzi, ma questa è una versione, veramente spettacolare, non si può non acquistare, guardate il volto, dell'unico, re del terrore, perché Diabolic, è l'unico personaggio, che include, più terrore, di tutti quanti, quando noi sentiamo, il nome Diabolic, ce la facciamo sotto, è così ragazzi, niente è più spaventoso, di Diabolic, re del terrore 1, re del terrore, vuol dire che, niente è spaventoso, di Diabolic, è così, quindi ragazzi, storia, veramente spettacolare, adesso vi voglio mostrare, ecco ragazzi, questa qua, l'avevo vista già, guardate qua ragazzi, i primi piani del maestro, eh ragazzi, guardate un po', io poi sono, a me piace moltissimo, lo sguardo di Diabolic, mi piacciono gli occhi, noi famosi occhi, che vediamo molte volte, quindi ragazzi, rivedere, rivivere queste atmosfere, in cui le Diabolic raccontano, quando si trova, a Cinco, mentre si trovano, i ragazzi non vogliono raccontare troppo, della trama, perché magari qualcuno, viene alla letta, ci sta sempre, per quello io non racconto mai le trame, però diciamo, quando i due stanno faccia a faccia, quando sono faccia a faccia, Diabolic gli dice, io in realtà non so, neanche io in realtà, so chi sono, tra virgolette, perché lui si ricorda, però, non proprio, tutto tutto sappiamo, di Diabolic, e quindi, quando lui comincia a raccontare, quello che, quello che può, che vuole a Cinco, ci sono ricordi, della sua infancia, di quando lui stava, sull'isola di King, e qua ragazzi, e tutta questa scena qui, è molto impattante, cioè, se la leggere una volta, rimarere sicuramente, estasiati, e comunque, secondo me, anche per chi, magari come me, l'ha letta già, tre, quattro volte, rileggerla, con questi, nuovi disegni, di Roy, sarà comunque, un'esperienza da vivere, per quello io, l'ho dovuto prendere, perché comunque, non potono, non acquistarlo, perché veramente, guardate qua ragazzi, guardate qua ragazzi, un'altra, altra tavola, importantissima, qui ovviamente, c'è, un riferimento, chiaro, a Hitchcock, a Psycho, ma questo c'era anche, c'era anche, nella tavola originale, ma qui, l'ha fatta diversa, perché qua c'erano, altre cose, lui ci ha messo i coltelli, quindi questa qua, credo che sia, un chiaro riferimento, a Psycho, del maestro Hitchcock, qui insomma ragazzi, c'è, spettacolare, poi abbiamo, altri contenuti speciali, vedete, prima versione, di Corrado Roy, della Splash Page, di Abolic, chi sei ragazzi, guardate qua, che spettacolo, guardate che bellezza ragazzi, io ripeto, questa edizione, io, la consiglio caldamente, io, consiglio sempre le cose, quando sono il primo, che le prende, cioè, che consiglio, sapete, e vedete ragazzi, ci sono, poi nel finale, le prime versioni, insomma, i vari, insomma, varie cose, fatte da Roy, prima della stesura finale, di questo, di questo suo, remake, come mostro questa qui, ragazzi, che spettacolare, e quindi, questo qua, è il Diabolica che sei, fatto, dal maestro, Corrado Roy, il più grande, ripeto, maestro del bianco e nero, penso, in Italia, ma, tra i più grandi, penso al mondo, sicuramente, poi, dopo questo, gioiello, spettacolare, è uscito, perché questo qua, è uscito l'altro anno, se non sbaglio, il sessantesimo, è uscito l'altro anno, quest'anno, da poco, poi, è uscito, infatti, ho preso insieme, ho preso entrambi, una, sempre un altro remake, di un altro numero, di diaboliche, molto importante, perché qui si parla, ragazzi, invece, sempre dalla stessa, edizione dello scarabbeo, di, guardate questo qua, ragazzi, la morte di Eva, con questa, questa copertina, che sembra, ragazzi, un quadro, soltanto per la copertina, guardate un po', ragazzi, sembra un quadro, ragazzi, ma è spettacolare, cioè, come si fa, stare in fumetteria, o in liberia, e, non rimanere rapiti, da questo, da questo quadro, qua abbiamo, invece, la morte di Eva, che corrisponde al numero 100, anch'esso, ha colori, quando usce all'epoca, questo però, è la prima volta, che viene fatto il remake, del numero 100, e quindi questa cosa, l'ho creatita, qui abbiamo, un grandissimo, Patrizio Evangelisti, ai quali già faccio, prima ancora di scattare, perché già l'ho visto, lo ho sfogliato, i complimenti, per il grande lavoro svolto, su questa, su questa, su questo remake, primo remake, del numero 100, la morte di Eva, appunto, quello che avete tra le mani, è in assoluto, il primo remake, del famoso numero 100, come vi dicevo, di Diabolic, pubblicato da Astorina, il 27 novembre del 67, l'album in questione, rappresenta, un'autentica, pietra, migliare della serie, quindi una storia, ricordata, ma non ha sufficienza, secondo me, l'album, non solo per il traguardo, numerico raggiunto, ma anche per l'episodio, leggendario, che si racconta, a reinterpretare, oggi, i disegni, di Glauco Coretti, ancora una volta, Enzo Facciolo, sempre il dinamico duo, è Patrizio Evangelisti, maestro dello stile pittorico, infatti ragazzi, non mi sbaglio, vedete, è un quadro, capace di imprimere, tutto il fascino cult 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 di Diabolik, in questa inedita versione a colori, guardate anche il reto, che bellezza, questa è bellissima, questa è un'opera d'arte, quindi ragazzi, andiamo ad aprirlo, così meno, io come al solito, ripeto, ve lo, ce lo godiamo insieme, perché insomma, a me piace fare questi video, per esempio, ce li godiamo insieme, questi, io porto sempre sul canale, quando faccio questi video, perché reputo cose, veramente imprescindibili, importantissime, insomma, se no non fare il video, non fare su altro, quindi ragazzi, andiamoci ad aprire, io ripeto, l'ho già sfogliato, so già come è fatto, però adesso voi, potrete godere insieme a me, di questo spettacolare, grazie, ovviamente ragazzi, anche in questo caso, la morte di Eva, perché si parla appunto, la trama, la storia è molto avvincente, ripeto, molto, classica, storia abolica, ma quando, all'epoca uscì, fece molto parlare, discutere, per la grande, sceneggiatura, che le Giussani, elaborarono, insomma, perché la morte di Eva, insomma, ragazzi, ma guardate che la orbe, ragazzi, ma è spettacolare, ma ragà, ma questi sono i disegni, che voglia, queste sono le storie, imprescindibili, come tanti altri, che baciano, fumetti, che andrebbero strappati, queste sono opere d'arte, eh, lo so che molti, mi dicono, ma che toffa, una battaglia persa, non è una battaglia persa, perché questo, è l'assolutismo dell'arte, ragazzi, no, che baciano, certi fumetti, andrebbero bruciati, ma no, perché, perché ragazzi, guardate che bellezza, ovviamente, qua c'è tutto, anche in questo caso, un reparto spettacolare, con, con, un, reparto, vedete qua, di extra, ovviamente, ragazzi, trovo azzeccato questo albero, perché, evangelisti, è un pittore, e il numero 100 di diaboliche, fu a colori, quindi serviva proprio un qualcuno, esperto a lavorare, a colori, per elaborare un pezzo, per elaborare una storia così importante, cioè, di farla, con un colorista, un pittore vero, è qualcosa di meraviglioso, questa storia, si serviva un vero remake, fatto con un esperto del campo, ma ragazzi, qua, ho sentito addirittura, qualcuno che l'ha criticato, è qualcuno che legge solo, il sacro che esce adesso, per criticarlo, eh, guardate qua, ragazzi, io, boh, o siamo arrivati a un punto, che non si riesce più a distinguere, la vera arte, oppure, per me è quello, perché ormai, ormai sono veramente inondati, cioè, stile moderno, fresco, ma ha una tecnica artistica, di evangelistica, è qualcosa che andrebbe veramente, da insegnare, ma guardate che tecnica, ragazzi, ma guardate quella originale, ovviamente è più classica, ma questo è un altro tipo di lavoro, cioè, ma guardate che bellezza, ragazzi, ma questo, io faccio pubblicamente i complimenti, gli evangelisti, per questa, per questa opera d'arte, che va, a omaggiare in un modo incredibile, un capolavoro assolutista, della storia del fumetto italiano, ma guardate che bellezza, ragazzi, ma è spettacolare, queste sono, sono, sono storie, storie, ma disegni, che veramente, andrebbero, ci si dovrebbe suffermare, cioè, sì, ma per carità, magari, non è proprio il classico, diabolic, però, bisogna dare a cesare, perché, dicete, qua c'è veramente un grande lavoro, ma si vede, ci si vede, sì, magari, posso capire, i fan più accadenti, magari, il volto, non è proprio fedele, perché, ovviamente, quello classico, piace anche a me di più, però, qua non si può, non dire, che è un grande lavoro, cioè, a me piace più, ad esempio, no, il volto, però, cioè, è quello classico, è quello che più mi piace, vedere qua, però, non si può dire, che questo sia un lavoro, egregio, cioè, bisogna anche un po', rispolverare queste storie, dargli anche un aspetto, una chiave, una nuova chiave, se fatta, però, con criterio e con arte, perché questa è arte, ragazzi, ah, poi qua c'è tutta la scena, vabbè, ragazzi, io non vi racconto, perché ragazzi, questa qua, è una storia che è veramente, balletta, cioè, già, la morte di Eva, vi dovrebbe far capire, un po', di cosa si fa apparare, guardate, eh, guardate quanto è bello, questo, questo me lo ricordavo, guardate quanto è bello, questo volto rielaborato, cioè, rifatto, cioè, ragazzi, è spettacolare, cioè, io, ripeto, quando lo scopo in fumetteria, sono rimasto sbalordito, ho detto, no, non si può, cioè, qua si vede proprio, che c'è un grandissimo lavoro, ragazzi, qua, ogni pagina, è uno spettacolo, è pure bello rivedere, le idee, ma anche per chi non ha mai letto questa storia, si fa veramente, si fa una, beh, guardate quest'altra, ragazzi, amore, guardate questa, questa bellissima scena, guardate questa, è questa, guardate quanto è bella, anche qui ovviamente, con le tavole vere, vicino, infatti qua, ad esempio, questa qua, era molto più, questa qui, era molto più, semplice, no, come tavola, va a vedere, è piccolo, guardate invece lui, come la tutta rielaborata, in un'altra, maniera un po' più, impattante, no, perché alcune cose, magari la cambia, ma ci sta, è un remake, ma io ho visto anche, fatti remake, come ad esempio, se volto vivo, che riuscirò, i genitori di aborti, che anche quello, ci piace un video, se non sbaglio, molto interessante, cioè, questi remake, se fatti, con un certo, cioè, con questi artisti qua, hanno senso, cioè, con una elaborazione, con una voglia, di immettere anche, freschezza, di dare una nuova linfa, a queste storie, che comunque, sono già belle di loro, però così, tu vai veramente, a esaltarle, ancora di più, vedere qua, queste sono, pagine, sono, insomma, altri, altri schizzi, altri schizzi, altri disegni, sempre di evangelisti, è pieno ragazzi, qua veramente, guardate un po' qui, tutti quanti gli schetti, i bozzetti, gli schetti, gli schetti, fatti da, preparatori, di evangelisti, ragazzi, io veramente, rimango spadordito, questo, questo è veramente un caldo, assoluto, quindi ragazzi, la morte di Eva, anche questo qua, l'unica pecca, e che mi sono reso conto prima, è che non capisco, ora lo guardiamo insieme, non capisco perché hanno fatto, vedete, sono, sono diversi, di formato, vedete, questo, è un po' più alto, vedete, questo qua, il diabolico che sei, è un po' più alto, della morte di Eva, ed è un po' più largo, c'è lungo, liberia, vedete, se vedete un po' che, non capisco perché, vabbè, non è una cosa, diciamo di strappi i capelli, però, è un po' più piccolo, di, vedete, il diabolico che sei, è un po' più grande, di questo, vabbè, niente di che, però, era per dirvelo, quindi ragazzi, video, meritato, per due, capolavori, scusate ragazzi, ma qua, la telecamera è un po' un casino, per due capolavori assoluti, di diaboliche, due storie emblemati, io spero che ne facciano altre, a questo punto, perché, veramente, spero che ne vedremo altre, cioè, ce ne sono tantissime storie che mi piacciono, vediamo, penso che ne faranno altre, non sempre le stesse, che ad esempio, il numero uno abbiamo fatto, ce ne sono stati tanti di remake, anche dell'arresto, anche dell'arresto di diaboliche, sono stati già rifatti, già sono stati fatti, insomma, vediamo, comunque io, lo scarabbeo, veramente, è una casa di rice, che ci sta portando delle chicche, forse, vi farò vedere un'altra cosa, dello scarabbeo, vediamo, se, non vi dico cosa, perché se no, poi mi spoilerò il video, il video che voglio fare, se la prendo, però, comunque, sapete, questa casa editrice, ci porta veramente, delle belle chicche, le nuove edizioni, e tante altre cose, vediamo cosa, apportano anche il Dracula, sempre di Ro, insomma, veramente, è una bella casa editrice, che sta, portando, ripeto, belle edizioni di opere, e comunque, facendo però, cose nuove, che comunque, in questo caso, tutti i progetti nuovi, beh ragazzi, più di 20 minuti di video, però, per me, non mi interessa, dove, quando le cose sono importanti, quando c'è la qualità, vanno fatti questi video, fatemi sapere qualcosa, nei commenti, quale storia le vorreste, che ne so, rifatte di diabolica, ma non solo, cosa ne pensate, i difetti, insomma, qualsiasi cosa, che, volete scrivere, qua sotto, se siete interessati, tra l'altro, ai miei video, iscrivetevi, al mio canale, se vi è piaciuto il video, mettete un piaccio, commentate, fate quello che volete, io, come al solito, vi mando un grosso abbraccio, per ringrazio, per la visione, come faccio sempre, e come dico sempre, ci vediamo, al mio prossimo, video, viva Diabolic, l'unico e solo, re del terrore.